Non sei pronto per Zorringer. Sei un pistolero. I duelli sono diventati uno schifo. Non è più come un tempo. Su al nord, organizzano dei veri e propri duelli. Quando sono entrato nel cerchio la prima volta, speravo di trovare qualcosa. Non è a questo che eravamo destinati. Stupido, stupido uomo. Per il ciclo action, in prima visione, i combattenti. Giovedì alle 21.20, RAI 4.